Se nel decennio precedente all'insorgere della pandemia il miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie delle imprese del turismo ne aveva accresciuto il grado di resilienza di fronte a shock esterni, la pandemia e le misure per farvi fronte si sono però riflesse nel 2020 in un drastico calo delle presenze turistiche nell'isola. La contrazione più forte rispetto a quella media nazionale è stata più marcata per la componente straniera che ha mostrato una limitata capacità di ripresa nei mesi estivi quando si era verificato un allentamento delle restrizioni. E' quanto emerge dal rapporto di Banca Italia sull'economia in Sicilia, le presenze turistiche nelle strutture ricettive si sono contratte del 56,2% rispetto all'anno precedente in misura leggermente più intensa della media nazionale con un calo che ha interessato sia la componente domestica sia in misura più marcata quella straniera che nel 2019 rappresentava la metà delle presenze in regione. I flussi turistici si sono sostanzialmente arrestati tra aprile e maggio del 2020 nei mesi estivi in connessione con l'allentamento delle restrizioni hanno registrato un parziale recupero più intenso per la componente nazionale per la quale nel mese di settembre le presenze avevano superato quelle del 2019. Le presenze di turisti stranieri hanno invece mostrato una modesta capacità di ripresa rimanendo a settembre del 2020 su livelli inferiori di oltre il 70% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Da ottobre, col riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria e le successive restrizioni agli spostamenti, i flussi turistici hanno subito un'ulteriore battuta d'arresto particolarmente marcata per la componente internazionale. Dal secondo trimestre del 2020 il numero di occupati nel comparto si è ridotto del 17%, un calo più intenso che negli altri settori.